In ogni caso, Ellie, sì, dobbiamo darci da fare degli slogan del tipo credere, obbedire, nuotare, tu in mezzo, sì, in mezzo alla terra alluvionata lì in Romagna che nuoti mentre lanci un tweet, in costume da bagno, sì, un bikini, sì, qualcosa di sexy, questa è la prima cosa. La seconda cosa, cara Ellie, facciamo un film, un film su di te, sì, una serie Netflix, già la vedo, prendiamo un regista straniero, un americano, ma tu hai il passaporto americano, ma poi c'è un conflitto di interessi, no, un regista britannico, ecco, sì, facciamo un remake di un film di Stanley Kubrick, Schleining, ti piace? È tutto il mondo!